Un rito tanto originale quanto sentito a Campolieto, quello che dal 1858 riveste la statua della Madonna del Carmine con un abito festivo preziosissimo, donato dalla moglie di Ferdinando II di Borbone in persona, la regina Maria Teresa. La Madonna del Carmine è voluta bene da tutta la componente di Campolieto. La Madonna è bellissima anche con gli abiti feriali per noi, però diventa straordinaria, regale, qualcosa di divino quando mette il vestito della festa. Mette il vestito della festa perché verrà portata da tutta la comunità in processione a trovare la nostra patrona, che è la mamma della Madonna del Carmine, cioè Sant'Anna. La donazione fu il ringraziamento per i servigi che aveva reso alla regina il medico campoletano Giuseppe De Leo. Grazie alla devozione di un medico che riceve dalla regina di Napoli in dono questo vestito dorato, vestito prezioso. Ovviamente a Napoli la devozione carminitana è molto forte e la porta ecco anche in questo piccolo paesino di montagna. Molta la cura che occorre nella vestizione maneggiando tessuti così antichi e preziosi. In genere la vestizione inizia all'alba, verso le 4, 4 e mezzo della mattina del 25 luglio. Ricordiamo appunto soprattutto le persone che ci hanno preceduto, le persone che prima di noi hanno fatto questo. Poi sul palmo della mano sinistra c'è un perno dove poggia il bambinello, quindi bisogna fare attenzione, accortezza, a non sciupare anche perché l'abito è comunque datato e negli anni, anche mettendolo per solo due giorni, un giorno e mezzo, ogni anno comunque sia un po' diciamo anche rovinato e quindi cerchiamo di stare attenti a non sciuparlo. L'evento è da quest'anno inserito in Romanicamente in Cammino in vista del Giubileo. Sì, questo è l'evento che lancia ufficialmente il progetto Romanicamente in Cammino, che vede sette comunità interessate da Campobassa, Sant'Angelo, Limosano, Limosano, Matrice, Montagano, Petrella, Tifernina, Campolieto. È un progetto di itinerario giubilare Forul, stiamo rendendo questi territori, queste località con una grande attenzione di accessibilità perché può essere l'occasione del Giubileo uno strumento di rigenerazione delle persone ma anche strumento per la rigenerazione delle nostre comunità e dei nostri paesi.